Vengo da un'industria bella e importante, quale era l'ex azienda Monicchi. Ci sono stato tanto volentieri, però purtroppo questo lavoro di progettazione e vendita del prodotto non lo posso fare più e quindi poter essere rintegrato in un progetto come questo è sempre qualcosa che fa piacere e quindi ci coinvolge. Ci sono anche i cassa integrati, i lavoratori in mobilità dei grandi marchi aretini, Cantarelli, Monicchi e Del Tongo. Tra i 12 lavoratori socialmente utili selezionati dal comune di Arezzo che da giovedì prossimo entreranno in servizio per la manutenzione. Si occuperanno del restyling del verde pubblico, della viabilità e degli immobili comunali, integrando così sui sidi che già ricevono e che coprono 20 ore settimanali alle 5 ore aggiuntive che invece saranno retribuite dallo stesso comune. Verranno impiegati immediatamente nei lavori di riqualificazione dei sottopassaggi, partendo dal sottopassaggio di Via Trasimeno per poi andare in quello di Via Vittorio Veneto. I tre settori dove saranno impiegati saranno quello del verde pubblico, quello della manutenzione delle strade e quello degli immobili comunali. Sono stati dotati di un abbigliamento ad hoc dove ci saranno i due simboli, uno quello del comune di Arezzo e poi ci sarà la scritta hashtag amo Arezzo. Questo perché crediamo che sia anche per loro un orgoglio lavorare per i nostri concittadini e per la nostra città e quindi un segno distintivo credo che fosse doveroso. A noi che siamo nello stato di cassa integrazione o di mobilità fa solo che piacere aderire e quindi svolgere queste manzioni per una città bella come la nostra e capoluogo della provincia, quindi ci fa onore anche. E poi da che mondo è mondo il lavoro onora la persona e bene, ben vengano queste iniziative, non ho da dire altro e sono felice di poter intraprendere queste esperienze.